Questo virus è uno dei presentanti e non serve la forza per andare avanti. Dobbiamo essere uniti tutti quanti, senza tralassare nessuno tra gli abitanti. Non ci dobbiamo cascare, si chiama fase 2, ma sempre a casa dobbiamo stare, nelle fie che non ci dobbiamo diffidare e per il futuro possiamo solo sperare. Bisogna stare a casa e seguire i consigli, non come fanno i milanesi sui labigli, che creano solo scompigli e scappano come conigli. Quando il virus cesserà di contagiare e quegli amici si potrà trovare, sarà finalmente l'ora di festeggiare e passate alle spalle dovremo lasciare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!